Siete i compratori? Sì Hai della merce per noi? 200 grammi Pura, 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 pura Guarda i 200 grammi Dalla colombia diretto E' ottimo Ma il prezzo? 18 mila euro 90 euro al grammo 18 mila euro sarebbero 90 euro al grammo De duco Ci vale molto di più 18 mila euro noi cagliamo in faccia le persone Cagliamo sopra 18 mila euro Non mi sembra il caso di Di fare queste esagerazioni Non lo so C'è la crema che hai detto cazzo di questa merda Fate voi il prezzo Che vi devo dire? Noi accettiamo solo a 60 E non si tosce Ma quest'anno è sempre un po' poco Eh eh Cazzo Sono a trucco della colombia Andai non ce ne frega un cazzo di quello che... Preschiate, sono rischiate Dieci anni di carriera per portare a casa Non ce ne frega un emerito cazzo di quello che fai tu Alla colombia Noi cacciamo i soldi E tu devi giocchiare a noi Sei chiuso Non ci sentite le fulche perché sei un pizzo di ferro Ma non ce ne facciamo tanto pezzini di caso Io vi ho detto che quei ragazzi non vedono niente che faccio Noi cacciamo i chiudiamo tutto Non vedete l'istotica La colpa è temperatura Io vado Si ma... Un'ultima cosa Un'ultima cosa Un'ultima cosa Un'ultima cosa Sei veloce a correre Prego ma prego C'è il mio amico che a 200 metri fa bersaglia senza esistà Grazie a tutti Oh ecco Grazie Grazie